Qualche giorno fa vi ho fatto il video secondo cui purtroppo era morta Emma Morano, la donna italiana più vecchia del mondo. Ebbene però dopo la morte di questa donna, ecco che è arrivata una donna dalla Jamaica che detiene il record della persona più anziana del pianeta. Si chiama Violet Brown, ha ben 117 anni con più del mese scorso. E' stata riconosciuta come la donna più vecchia del pianeta Terra. Secondo Robert Young, direttore della sezione ricerca e archivio dei supercentenari del Geontology Research Group, un network di volontari che si impegnano nel ricercare costantemente quelli che sono i casi umani che detengono gli anni maggiori, quindi i più anziani del pianeta. Diunque Violet Brown è ad oggi la donna, o meglio l'essere umano vivente, più anziano del pianeta Terra. Non c'è un essere umano più anziano di lei, con l'età di 117 anni complessivi. La donna, pensate che ha trascorso gran parte della sua vita a tagliare carne da zucchero nei campi intorno alla sua casa a Dunsville, nell'ovest della Jamaica, ha frequentato regolarmente la chiesa e evita di mangiare assolutamente carne di maiale e di pollo. E' grata a Dio, ma è piuttosto sorpresa per essere vissuta e per continuare a vivere in un tempo così elevato. Bene, complimenti dunque a voi Violet Brown, a seconda di come intendete la pronuncia di questo nome, fa riflettere come questa donna sia arrivata ad un'età così elevata. Bene, complimenti dunque a lei, auguroni e cari saluti a voi tutti.